Siracusa con 47,6 è la città più calda della Sicilia mentre lotta contro il fuoco. Secondo i meteorologi Siracusa è la città più calda della Sicilia con 47,6 gradi registrati alle 14 di ieri dal Dipartimento regionale della protezione civile. Con 46,2, Priolo, Catania 45,7, Palermo ha toccato i 43,4 mentre Messina sono stati raggiunti i 43,1. In tutta la regione le temperature sono nella maggior parte dei casi superiori ai 40 gradi con Caltanissetta arrivata nello stesso orario ai 42,4. In queste stesse province si registrano inoltre continui blackout. Quella che tuttora avvolge l'isola resta un'andata di calore senza precedente con temperature che toccano picchi incredibili. Dalla regione e dalla protezione civile avvertono nuovamente i sindaci. Ecco le raccomandazioni che vengono ribadite. Attivare i centri operativi comunali e predisporre locali climatizzati dove ospitare anche nelle ore più calde soggetti fragili o più vulnerabili che non dispongono di abitazioni climatizzate, utilizzare palasporti, sale convegni, palestre, parti di ipermercati e sale consigliari. In secondo luogo la protezione civile chiede ai sindaci di attivare le associazioni di volontariato per assistere chi è in difficoltà anche con eventuali servizi di trasporto da o per casa. Inoltre è necessario far conoscere alla cittadinanza le norme comportamentali dei locali successivamente messe a disposizione. Si raccomanda di evitare manifestazioni all'aperto nelle ore più calde, meglio rimandare eventualmente alla primissima mattinata o serata. Infine è necessario mantenere i contatti con le strutture operative per ogni emergenza e informare la protezione civile dell'attivazione dei centri operativi comunali.